ciao e benvenute in questo nuovo episodio di eldaria oggi dobbiamo cominciare il capitolo 22 che si intitola un passo verso il futuro lo scorso capitolo come ben vi ricordate immagino è finito nel peggiore dei modi perché i creatori del gioco sempre delicatissimi hanno fatto morire un altro personaggio e purtroppo si tratta del piccolo mary e tra l'altro abbiamo scoperto che c'è un nuovo nemico orrendo orripilante da combattere che è una giovane donna che a quanto pare conosce e zariel e questa cosa mi incuriosisce tantissimo e ovviamente non vedo l'ora di scoprirne di più vediamo qui cosa ci dicono dall'anteprima solo un nome le rivelazioni di zariel riguardo alla misteriosa criminale hanno svelato numerosi segreti sull'elfo ma non è il momento dei rimproveri è necessario unirsi e far fronte a questa nuova rivale un nuovo viaggio ci aspetta io sinceramente non vedo l'ora di farla a pezzettini perché dopo il male che ha fatto al piccolo mary e purtroppo è un assassino di bambini perché questo mostro crudele rapisce e uccide i bambini e non solo anche i famigli infatti ha fatto fuori il piccolo animaletto di mary insomma io odio questa donna da morire quindi lanciamo l'episodio no vabbè ma dai ma di nuovo attenzione questo episodio contiene delle scene di violenza che potrebbero urtare la sensibilità di alcune persone a ridaglie ma che hanno i creatori del gioco ma insomma ma quindi che vuol dire che anche in questo episodio morirà qualcuno già io sto partendo insomma preoccupata mamma mia ma no ok negli episodi precedenti si guardiamo come il riepilogo dai sempre utile guardarlo dopo la purificazione del cristallo pensavi di poter ritornare alla routine del qg eh sì ma sfortunatamente non è così dopo innumerevoli ricerche e la morte di una persona importante sei finalmente riuscita a trovare il colpevole dei rapimenti una ragazza dal fisico mostruoso degno della creatura del dottor frankenstein l'incontro con quest'essere ha avuto delle terribili conseguenze la morte di mary sconvolto dagli avvenimenti e zariele si ammutolisce per fortuna lo hai aiutato a superare questo momento difficile adesso ha una confessione terribile da farvi siamo tutte orecchie ok lanciamo l'episodio preparatevi ragazze perché dall'intro mi sa che anche questo ci riserverà non lo so delle scene terribili io conosco questa ragazza cosa mico ha cambiato improvvisamente espressione e il suo scettro si è infiammato deve essere su tutte le furie mi stai prendendo in giro no io eseriele stava per scappare ma mico l'ha trattenuto violentemente per un braccio resta qui e dammi subito delle spiegazioni nessun altro dice nulla non capisco che cosa stia succedendo rispondimi non voglio parlarne lasciami eseriele si è liberato dalla presa di mico che gli corre dietro non posso restare senza fare nulla allora difendo o non intervengo allora io proverei a fare la prima e magari ci provo io a farlo parlare difendere eseriele e dire a mico di lasciarlo stare smetti l'amico mi sono interposta tra mico ed eseriele mico è andata su tutte le furie certo è normale a che gioco stai giocando voglio delle risposte pensi davvero che trattandolo in questo modo terrei qualcosa da lui nel silenzio totale affrontai mico con lo sguardo dopo un po si girò di spalle abbiamo vinto tremando appoggiò la testa sulla mia spalla e le sue braccia amici inserò la vita perché mi difendi perché non sopporto quando tutti se la prendono con una sola persona io sinceramente penso questa e perché non è in questo modo che otterremo delle risposte eseriele si è allontanato da me mi sono girata verso di lui la sua espressione indecifrabile prima che eseriele potesse riuscire a spiegare ho sentito una fitta allo stomaco oddio è colpa sua tutta questa storia è colpa sua ho guardato gli altri che sembrano stupiti quanto ma parli della ragazza nella foresta sì tutto è cominciato 15 anni fa si è seduto su un gradino vicino al cristallo e poi ha messo il viso tra le mani ci siamo avvicinati a lui stavo raccogliendo per conto della famiglia reale delle bacche di fuoco vicino alle piane di lundmingar è lì che l'ho vista spaventata a morte un'umana di nome merien un'umana umana come noi merien che cosa un'umana sì come è successo con ho capito subito dal suo odore che veniva dalla terra avendo paura di quello che il mio popolo le avrebbe potuto fare ho deciso di nasconderla ma un attimo ma è per questo che eseriele allora all'inizio della storia noi ci odiava a morte ho fatto un gesto di sorpresa ed eseriele se n'è accorto che si sei stata davvero fortunata ad arrivare qui se fossi capitata tra la mia gente saresti stata esposta come una belva o studiata da qualche sorta di scienziato pazzo ah bene non so cosa dire non avevo mai pensato che gli umani potessero essere trattati in questo modo su eldaria eppure quando ci ripenso mi sembra una cosa logica sono sicura che gli scienziati del mio mondo farebbero la stessa cosa con un fairy sì è vero infatti tipo da noi ci sono sempre quelle storie che si sentono ad esempio sugli alieni no che se un alieno viene nel nostro mondo gli scienziati di qua iniziano ad analizzarlo studiarlo sì è tipo la stessa cosa ogni giorno che passa scopro delle cose orribili che mi provano che eldaria non è poi il luogo magnifico che immaginavo all'inizio e zariel ha continuato a parlare dopo un po mi sono reso conto che quella ragazza stava diventando strana forse per colpa dell'aria di eldaria ho capito allora che dovevo trovare un modo di rimandarla sulla terra gli uomini da cui mi hai salvato mico erano i miei ex soci sono loro che mi hanno aiutato ad aprire il portale allora immagino che se meriene sia ancora qui e perché non sei riuscito a rispedirla a casa no l'ho vista attraversare il portale ma forse mi ha ingannato mi dispiace tantissimo avrei dovuto riconoscerla prima sì ma non è più umana che le è successo e come avresti potuto non ha la sua normale sembianza non lo so forse dal suo odore o dal suo atteggiamento ne avrà ragione amico mio non è colpa tua la vera colpevole è questa merienna e zariel si è girato di spalla edz hai fatto tutto il possibile smettetela tutta questa storia è colpa mia sento aumentare la tensione vorrei poter dire qualcosa ma non so cosa cerchiamo di stare calmi dobbiamo restare uniti e zariel la penso come gli altri non sei tu il responsabile e in nessun modo avresti potuto prevedere questa catastrofe le informazioni che ci hai dato sono molto preziose e sono sicura che ci saranno davvero molto utili non rimpiangere i tuoi intrighi passati perché devi aver avuto delle ottime ragioni per agire come hai fatto non sono d'accordo con wangwa ma mi avresti comunque dovuto raccontare questa storia quando sei arrivato nel qg avrei capito a quell'epoca non ti conoscevo affatto si è avvicinata di nuovo ad zariel ma questa volta con aria triste lo so mico ed zariel si spiegarono e imparai moltissimo su di lui nel suo paese d'origine lui e la sua famiglia erano gli alchimisti ufficiali della famiglia reale zariel era quindi molto ricco e aveva approfittato della sua posizione per procurarsi gli elementi necessari all'apertura del portale per rimandare meriene sulla terra ma qualcuno se ne accorse e fu ricercato per tradimento quando arrivò nel qg mico lo prese sotto la sua ala protettrice potete lasciarci da soli ho bisogno di parlare con enzariel da sola siamo usciti tutti dalla sala del cristallo non avevo voglia di lasciarlo da solo ma non ebbe scelta provavo un immenso bisogno di parlargli di avere delle risposte decisi di aspettare che uscisse anche lui dalla sala all'inizio attesi con angoscia ma poi pensai che non era il momento giusto per parlargli e che la cosa migliore da fare era lasciarlo solo è vero forse è meglio aspettare che sia lui a venire a parlarmi e dove vado provo di qui oh c'è leif case a leif tan non mi sembri in forma sei preoccupata per enzariel si non riesco a pensare ad altro non ti preoccupare ha molti amici fantastici sui quali può contare qui al qg non è solo deve soltanto capirlo speriamo bene grazie per le tue parole di conforto leif tan ok allora andiamo un po in giro perché mi sa che dobbiamo incontrare tutti sento piangere qualcuno cercare di capire chi uscire discretamente cerco di capire chi è che piange c'è qualcuno sento ancora piangere ma nessuna risposta ho seguito quei singhiozzi fino a capire da dove provenissero e lo sapevo che era lei lo immaginavo i car che ci fai qui passavo di qui ho sentito piangere non pensavo che fossi tu non stavo piangendo ti sbagli cerca di trattenere le lacrime prima di scoppiare di nuovo a piangere non è niente non ti preoccupare è solo che un periodo un po complicato e sono un po ipersensibile i car ho solo bisogno di restare un po da sola mi ha gentilmente fatto uscire dalla biblioteca prima di chiudersi dentro a chiave ok ricevito il messaggio va bene lasciamola da sola allora andiamo fuori c'è nessuno qui fuori no oh a wangwa a cosa stai pensando a quello a cui stai pensando anche tu immagino questa situazione la morte di questi bambini il passato burrascoso di ezariel ti capisco non sono riuscita a trattenere un sospiro dai casey cerca di restare positiva risolveremo tutto te lo prometto se vuoi scusarmi devo andare a parlare con la madre di mary oddio non ti preoccupare a dopo mary no vabbè io ancora non ci credo che non lo rivedremo più nel gioco cioè mi sembra assurda come cosa non so dove andare la porta è chiusa a chiave nessuno risponde penso che evelyn abbia bisogno di restare tranquilla e non voglia essere disturbata e ricordiamoci che evelyn è innamorata di ezariel qui non c'è nessuno ma dove sono devo trovare altri ma non so dove stanno qui per esempio non sono scesa quindi scendiamo oh c'è lui ecco nevra mi sembra preoccupato stai bene no mi dispiace mi sembra di averti fatto una domanda stupida non ti preoccupare è solo che tre bambini sono morti un quarto è traumatizzato probabilmente a vita ez si sente in colpa per tutta questa storia come pensi che possa star bene ezariel non riesce davvero a farsene una ragione credo che a questo punto tu sappia come è fatto no possiamo dire di sì spero soprattutto che non si chiude in se stesso come ha l'abitudine di fare lo spero anch'io per lui vado a parlare con carenna non so se ha già saputo di meri che brutta situazione ma ho parlato con tutti o c'è ancora qualcuno no mi sa che mi manca qualcuno chi non riesco a capire chi è che mi manca perché non non incontro più nessuno quindi sto consumando tantissima ana perché non so che devo fa ci sono così tante cose che mi frullano per la testa che non so più cosa fare o pensare non riesco a smettere di pensare ad ezariel e a quello che può provare in questo momento dopo aver parlato un po con gli altri e fatto il giro del qg decisi di andare a fare una doccia forse in questo modo riuscirò a schiarirmi le idee dove sta la doccia allora andiamo verso la nostra stanza o ezariel si è girato verso di me senza rispondere lo sguardo perso nel vuoto spinta dall'istinto avanzai verso di lui e gli strinsi la mano ma si liberò immediatamente dalla presa lo so che non gli piace essere toccato ma in questo momento davvero l'impressione che il suo rigetto nasconda qualcosa di più profondo cercai di capire attraverso il suo sguardo e suoi pensieri ovviamente sapevo che il suo stato d'animo era legato agli ultimi eventi ma c'era qualcos'altro ez non mi spingere via dimmi che cosa c'è voglio soltanto esserti vicina vuoi davvero stare vicino ad un assassino un assassino ma che stai dicendo che io sappia non hai ucciso nessuno non con le mie mani ma è la stessa cosa come tutti noi hai fatto di tutto per salvare quei bambini se sei colpevole tu allora lo siamo tutti no voi non avreste potuto capire io sì capire cosa la spilla dell'uomo lingar era un indizio che avrei dovuto riconoscere avrebbe potuto metterti sotto gli occhi qualsiasi cosa non saresti riuscito ad indovinare come ci hai detto questa storia risale a molti anni fa ed eri persuaso che lei fosse tornata sulla terra eppure era proprio lei non qualcun'altra lei la mia responsabilità il mio fardello e allora ho gridato senza nemmeno rendermene conto di che cosa sei responsabile in che modo pensi di aver ucciso mary e gli altri bambini è stata lei e non tu non sei responsabile degli errori commessi dalla tua ex la mia ex sei impazzita marie n aveva soltanto dieci anni quando l'ho conosciuta dieci anni ma era una bambina quindi scusate ma se era una bambina perché uccide gli altri bambini cioè che lei è successo a questa il tuo comportamento mi lascia senza parola che cosa ho l'impressione che stia cercando di farmi passare per la cattiva della situazione e zero le cercò di scappar via come aveva fatto nella sala del cristallo ma cercai di trattenerlo mi guardo così intensamente che provai un profondo senso d'angoscia per una volta fatti gli affari tuoi come scusa non ti sopporto più e non sopporto più nemmeno il tuo falso altruismo lasciami stare o ezariel ti sei rincretinito all'improvviso non pensi davvero quello che dici ezariel si sono cosciente di quello che dico ed ho un peso ad ogni parola allora adesso gentilmente spostati e lasciami passare cerco di spingermi via per lasciarlo passare ma non mi spostai sei serio pensi di potermi dire una cosa simile ad andartene via in questo modo non mi ascolta e continua ad allontanarsi ezariel non è in questo modo che risolverai i tuoi problemi urlo in vano smisi di gridare e provai un forte senso di collera le mie mani tremavano dalla rabbia e dalla frustrazione forse è meglio andarsi a calmare dove mi vado a calmare in camera ma il comportamento di ezariel è stranissimo ezariel ero in camera mia senza sapere cosa fare come aveva potuto dirmi delle cose simili eravamo amici non riuscivo davvero a capire il suo comportamento collera e tristezza si mescolavano tra i miei pensieri stavo per uscire per andare a parlare con ezariel quando qualcuno entrò in camera e sarà il nostro fidanzato pensai che fosse lui ma senti qualcuno avvicinarsi ed abbracciarmi con delicatezza ovviamente valk riconobbi subito quell'abbraccio e fu invasa da un senso di sicurezza valkion mi sono girato l'ho abbracciato ancora più forte ho ascoltato la vostra discussione ho cercato di parlarvi ma in vano spero che tu non creda tutto quello che ti ha detto ha ragione solo su un punto sono una persona curiosa e allora se non lo fossi stata non ci saremmo mai messi insieme ammiro molto questo lato di te sei curiosa ti interessi agli altri e sei riuscita a farmi aprire un po dici davvero certo valkione mi strinse di nuovo tra le braccia mi faceva sentire così bene e tutti i miei pensieri per un attimo sparirono dopo diverse ore passate a farmi consolare da quell'uomo così premuroso dovetti arrendermi all'evidenza e zariel mi aveva detto delle cose orribili ma non dovevo darci troppo peso nonostante tutto non riuscì ad addormentarmi e decisi di andare a fare due passi è già notte fonda devo cercare di far piano se non voglio svegliare tutto il qg e ok allora io mi fermo qui per quanto riguarda questo episodio quindi nel prossimo andremo a fare due passi vedremo un po quello che succederà e se soprattutto riusciremo a chiarire con e zariel tutta questa faccenda perché non so come mai si comporta in questo modo così strano con noi fatemi sapere ovviamente cosa ne avete pensato poi giù nei commenti per fortuna in questo episodio iniziale non è successo nulla di catastrofico ma andando avanti eh qualcosa mi dice che invece accadrà ok incrociamo le dita e speriamo che non muore nessuno quindi aspetto di leggere i vostri commenti se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettermi un like se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi giochi che pubblicherò e noi ci vediamo in un prossimo video ciao